I brighenti scognamillo nella classica linea 3, Cazzaris e Van de Putt sulle corsie laterali con Ghion, Verna e Sunas in mezzo. Iemmelo e Biasci là davanti, dall'altra parte invece le scelte di Mr. Raffaele che non ha a disposizione girasole squalificato, indisponibile e anche legittimo Riccardi, Masella ed Emma Uso. Alla fine gioca Armini in difesa, per il resto confermata la formazione che ha fatto bene nelle ultime due, occhio al Catanzaro, Ghion, due passi dentro l'aria, Cazzaris, Catanzaro in vantaggio, dopo 40 secondi esplode il ceravolo, cambia il match, il gol di Cazzaris, la mozza di Vivarini, Aquile già in vantaggio. Incredibile, già in vantaggio, Catanzaro 1, potenza 0, Al primo a fondo, il Catanzaro passa in vantaggio, ha parecchiato la tavola Ghion, il tocco sotto porta di Cazzaris, dunque anche Cazzaris entra nell'elenco dei calciatori andati in gol. Nel Catanzaro la cooperativa giallorossa che sblocca subito il match, Aquile in vantaggio, cinquantesimo gol in campionato, colpito subito il potenza.